L'AMPEDUSA ha contraddembriacola, che non è un CIE, quindi non è un luogo deputato al trattenimento, private e a libertà personale centinaia di persone, tra cui decine di minori. Tutte queste persone non hanno mai ricevuto alcuna notifica di nessun provvedimento amministrativo, e quindi articolo 6, ecoprocesso, sapere perché sono dentro, capire come difendermi e via di seguito, nessun provvedimento, quindi nessuna convalida. Giudiziaria perché non c'è un provvedimento a monte. Quindi persone private e la libertà personale, come se l'articolo 13 della nostra Costituzione non esistesse, se il 5 della cede non esistesse, la carta di Nizza e il valore che adesso ha in seguito al trattato di Lisbona, non esistessero, e una difficoltà enorme a questo punto a fare un ricorso, perché tu fai un ricorso contro un fatto e non contro un atto, ed è difficile fare i ricorsi contro fatti e non contro atti. Quindi fai gli esposti in procura, è già stata richiesta l'archiviazione per l'esposto che avevamo fatto l'anno scorso. La motivazione è, contradembriacola non è un CIE, quindi le persone non sono trattenute. Beh grazie, ma sono trattenute di fatto. Ed è difficile anche quando, penso adesso ai minori afghani respinti costantemente nel porto di Adriatico, anche lì abbiamo un ricorso pendente alla Corte Europea dei Diritti e l'uomo, prima il collega diceva i tempi, un ricorso fatto nel 2009, siamo al 2012, procedimento d'urgenza, avviato con articolo 39 e stiamo aspettando. Cioè dalla Corte abbiamo avuto che per alcuni di loro, e non vi saprei dire il criterio, per alcuni di loro è stato sospeso il respingimento ulteriore verso l'Afghanistan, perché parliamo per lo più di minori afghani, che l'Italia aveva respinto verso la Grecia e con tutto che già c'era stato il monito dell'UNHCR su non applicare la Dublino verso la Grecia, perché comunque la Grecia non dà l'asilo a nessuno, e la Grecia li rispinge in Afghanistan. Noi facciamo il ricorso per 35 di loro, tra cui tantissimi minorenni, alla Corte Europea dei Diritti e l'uomo. La Corte Europea dei Diritti e l'uomo sospende per 5 o 6 di loro, e scelti secondo me a caso, e per gli altri no. Siamo al 2012, la Corte Europea non decide, ma quello che fa è ogni 6 mesi sulle citazioni mi risponde dicendo dammi notizie di questi signori, dimmi dove stanno. Io li ho lasciati in un campo a patrasso che è bruciato tante volte, e io non ho più notizia di questi ragazzini di 14, 15, 16 o 17 anni. Quindi sì, forse non ci sono leggi che dicono che vengono violati i diritti umani, però visto che di fatto i diritti umani vengono violati costantemente e si mette a repentaglio la vita dalle persone, perché si mette a repentaglio mentre vengono trattenute, si mette a repentaglio mentre vengono espulse. Due anni fa sono stata chiamata da un guardiafuoco del porto di Genova che mentre stanno facendo lavori di fiamme su una nave che trasportava merci, vede una faccia nera dall'oblò che chiede visibilmente aiuto. Questa persona era linchiusa da giorni lì dentro con un catenaccio e stavano facendo lavori di fiamma sulla nave. Ora, con l'occasione ho scoperto questo, che le navi hanno un'assicurazione che copre il rischio clandestino a bordo. L'assicurazione ha un avvocato, l'avvocato era già stato lì, aveva visto questa persona, un nostro collega che non ha visto ovviamente un essere umano e ha preso i suoi dati, nonostante lui fosse un richiedente asilo e poi ha avuto il permesso per protezione per tre anni. Lui, ignorando tutto questo, è andato alla sua ambasciata e si è fatto dare un bel documento di viaggio per poterlo riportare indietro. Denunciandolo praticamente. Esatto, denunciandolo alla sua ambasciata. Quando finalmente, grazie all'intervento del parlamentare, siamo riusciti a farlo scendere, lui è riuscito a fare la sua bella domanda d'asilo e ha avuto la protezione internazionale. In tutte le Costituzioni la libertà è considerato un valore primario e in tutte le Costituzioni la libertà è un valore inviolabile. Ma in tutte le Costituzioni è previsto, di tutti i Paesi, è previsto che lo Stato possa limitare in determinati casi e modi previsti dalla legge la libertà degli individui. Beh, in tutte le Costituzioni è previsto che la dignità sia un valore inviolabile e in nessuna Costituzione al mondo è prevista che la dignità degli esseri umani possa essere violata. e mi ha fatto molto pensare questo perché tutti i nostri luoghi di detenzione sono luoghi dove la dignità viene costantemente violata. Grazie. 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 Grazie.